Allora, abbiamo alla mia sinistra Oscar di Xiaomi e alla mia destra Matteo di Kurti. Sì, della nota casata. Della nota casata dei Kurti. Esatto, io sono Settimio Benedusi, faccista, a modo di finirmi, cioè mi piacciono le facce. Allora, siamo qui per parlare di mobile photography, giusto? Yes, mobile photography. Oggi si parla un po' di questo, di Xiaomi, appunto Focus Xiaomi, la fotografia come linguaggio popolare. Quindi diciamo che appunto Xiaomi, di cui rappresento oggi, sono responsabile creativo, è uno degli sponsor di oggi del MIA, di cui siamo felicissimi, ci avevamo già provato negli anni passati, ma quest'anno abbiamo capito che era la volta giusta. I motivi sono molteplici, ovviamente ci sono motivi legati al prodotto, quindi a Xiaomi 13 Series, la nuova famiglia, flagship, che è stata presentata un mesetto fa in collaborazione con l'Aica. Prima volta, diciamo, per noi questo tipo di collaborazione, una collaborazione che vede completamente rivedere del tutto il comparto fotografico dello smartphone, soprattutto in vista dell'esperienza dell'utente, quindi di quello che veramente faranno le persone. E per fare questo, per raccontare questa cosa, ci siamo appunto appoggiati un po' a Ricordi Stampati, il progetto di Settimio. Siamo in ballo ormai da un po' con questo progetto, che si è un po' articolato in vari step e questo è in qualche modo l'ultimo step per raccontare questa nostra idea comune, che quando io sono andato, perché sono stato un soggetto da Ricordi Stampati, da Settimio, e quando ho visto appunto che parlava di fotografia popolare, di fotografia per tutti, questa cosa qua mi ha fatto scattare qualcosa, mi ha fatto capire che effettivamente ci fosse un punto di contatto tra Xiaomi e che, non so, magari ve lo dico adesso, lo slogan di Xiaomi è Innovation for Everyone, quindi in qualche modo l'innovazione per tutti, popolare, e appunto la fotografia popolare di Ricordi Stampati, che appunto magari adesso ci introduce un attimo Settimio e poi capiamo i punti di contatto delle due cose. Sì, hai detto, mi fa piacere più volte, hai usato queste due paroline che io amo molto, fotografia popolare, perché sia per il progetto Ricordi Stampati, che ormai c'è da un po' di anni, che ha nelle nostre intenzioni riportato il ritratto, insomma non scordiamoci che la fotografia, quando è stata inventata quasi 200 anni fa, ha rivoluzionato la maniera in cui il mondo, quando le persone mostravano se stesse. Prima dell'invenzione della fotografia, la possibilità di raccontare ai posteri, tramandare ai posteri la propria faccia, era riservata, grazie alla pittura, solamente a una fascia molto ristretta di persone, è un'elite, in poche parole a quelli che potevano pagarsi i servigi di un pittore, che richiedevano tempo e denaro, perché un pittore ovviamente per fare un quadro d'olio ci metteva tanto tempo e costava tanti soldi, per cui se uno era un duca, un marchese, un papa o comunque un ricco, un borghese a casa aveva un ritratto che lo rappresentava. E peraltro quella questione lì non è mai stata semplicemente una questione narcisistica, assolutamente no, era ed è sempre stata una questione di certificazione identitaria, cioè il Sforza, adesso siamo a Milano, di Milano, tutti sapevano che lo Sforza duca di Milano era lo Sforza duca di Milano, ma il fatto che ci fosse un pittore che lo dipingeva e lui a casa aveva quel ritratto, era una certificazione identitaria che quella persona era veramente il duca di Milano. Questo concetto della certificazione identitaria in qualche maniera ha un rimasuglio tuttora nella nostra contemporaneità. Noi ci trasciniamo dietro un sacco di cose che arrivano dal passato, di vario tipo, di vario genere. Mi piace ricordare i bottoni. I bottoni sono un qualcosa che noi usiamo nella contemporaneità che arrivano da una tradizione molto antica. Per le persone avere un vestito col bottone era qualcosa che era molto nobile, era molto ricco. Se ci pensate, i preti, tuttora che hanno dei vestiti antichi, hanno vestiti pieni di bottoni, perché la differenza tra i ricchi e i poveri era che i ricchi potevano permettersi i bottoni, mentre i poveri no. E quindi noi, tuttora, nel 2023, usiamo molti bottoni. Tutte le giacche qua hanno tre bottoni da uomo, ma anche quelli da donna, che sono completamente inutili. Però sono un rimasuglio di quella nobilità che i bottoni hanno rappresentato per tanto tempo. E così, in ugual misura, questa eredità antica della fotografia che rappresenta un'identità è presente nella nostra contemporaneità, perché noi tutti in tasca abbiamo un documento che si chiama carta d'identità, non a caso, con sopra una fotografia. E quella fotografia, se ci pensate, è più importante di noi, perché quella fotografia certifica chi noi siamo. Se ci ferma la polizia, siamo noi che dobbiamo assomigliare a quella fotografia, non la fotografia a noi, comanda la fotografia. Quella fotografia certifica la nostra identità. Ad esempio, questa è una cosa molto italiana, molto mediterranea, nel senso che, ad esempio, nei paesi anglosassoni la carta d'identità non esiste. Quindi una cosa che per noi sembra assolutamente pacifica e naturale come la carta d'identità, in Inghilterra non c'è e nessuno va in giro con la carta d'identità. Negli alberghi non chiedono la carta d'identità. Lì entriamo in un altro capitolo perché lì invece chiedono la carta di credito. Vabbè, adesso non complichiamoci la faccenda. Tornando alla fotografia, appunto per tanto tempo la possibilità, il privilegio di avere un racconto iconografico della propria faccia era riservata a pochi. Appena nata, appena inventata la fotografia, siamo quasi a 200 anni fa, subito, immediatamente la fotografia è stata usata per fotografare le persone, per raccontare l'identità delle persone, pur con enormi difficoltà tecniche, lunghissimi tempi di disposizione, insomma poca luce, insomma difficoltà tecniche varie che facevano ad esempio in maniera tale che nessuno stava in piedi, erano tutti seduti, le fotografie dei primi dell'Ottocento tutti seduti perché era difficile stare in piedi per svariati minuti che era il tempo necessario per l'esposizione della pellicola. Oppure nessuno rideva, erano tutti seri perché anche lì non si può ridere per tre minuti di esposizione. Quindi nonostante queste enormi difficoltà tecniche, subito la fotografia è stata usata per fotografare le persone. Nadar, un grande ritratista famoso alla sua fotografia di Boulard a Parigi, aveva uno studio fotografico meraviglioso con le luci naturali in Italia, Linari, insomma i fotografi hanno subito usato la fotografia per fotografare le persone. E quindi succede che non so quanti di noi abbiano a casa un dipinto dell'antenato marchese, duca, papa, forse pochi, forse nessuno, ma tutti abbiamo a casa una fotografia del nostro bisdonno, della nostra nonna. E questa è una cosa enormemente importante, ha una enorme, enorme importanza proprio sociale, filosofica, politica, etica. Perché voi immaginate, tornando agli sforza, i nobili milanesi tanti anni fa, loro avevano il privilegio di avere a casa un ritratto del proprio nonno e i loro figli avrebbero sempre saputo che faccia aveva il suo padre, i nonni e gli zii. E questo, c'è una frase che io cito spesso, che ho letto a qualche parte di Nelson Mandela, sinceramente non so perché Nelson Mandela l'abbia detta, ma Nelson Mandela, ho trovato una volta questa sua frase che dice, il ricordo è il tessuto dell'identità. Cioè voi immaginate un mondo in cui, mentre gli sforza avevano a casa, invece i contadini lombardi del 1600 non avevano più vaga idea di che faccia avesse il loro padre e i padri sapevano che i loro figli non avrebbero mai avuto nessuna conoscenza dei loro antenati. È una cosa importante perché fa in maniera tale che si costruisca una certificazione identitaria che fa parte dell'umanità, della vita e dell'essere collegati in una società. Quindi la fotografia ha letteralmente regalato all'umanità questa enorme possibilità, l'umanità l'ha subito recepita per cui è esploso la possibilità di andare da un fotografo, da un artigiano e farsi fare un ritratto e questa cosa ha veramente rivoluzionato il mondo. È veramente una grande enorme rivoluzione sociale e sociologica che la fotografia ha regalato al mondo. Poi è successo, in qualche maniera il telefonino è da un certo punto di vista carnefice ma anche salvatore, perché da un certo punto di vista poi sono dati telefonini con la macchina fotografica dentro e in effetti tutti in tasca. Noi adesso abbiamo un oggetto che ormai lo sappiamo molto bene, raramente usiamo per telefonare. Devo dire che questo forse è un altro capitolo che sarebbe interessante Matteo approfondire, ma non è questo il luogo, è il momento, che ormai si telefona poco. Non so se capita anche a voi. Sì, quando arriva una telefonata normalmente è un disturbo di qualcos'altro che stai facendo col telefono, quindi devi abbandonare la tua attività con delle app e rispondere al telefono, liberarti del seccatore e tornare a quello per cui stavi effettivamente usando il telefono. Esatto, esatto. E ormai, se questa cosa non so se capita anche a voi, che anche per telefonare ad un amico si prende appuntamento, vero o no? Ma comunque è una questione generazionale, perché quelli che hanno superato la metà della loro vita sono abituati a parlare al telefono, una cosa che comunque fanno volentieri perché tiene compagnia. I giovani sono molto impazienti delle telefonate e infatti sostituiscono con dei messaggi molto lunghi o con delle alternative che non danno però comunque la stessa capacità d'espressione, specialmente quando poi si tende a semplificare molto il testo scritto. Esatto, esatto. Con dei lunghissimi vocali che noi molto amiamo. Si può andare al doppia velocità, quella è una vera provvidenza. Io uso sempre il due per. Si, si, si. Però è strano perché fa una voce che, a parte se è più veloce, è anche un po' minacciosa. Si, 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 diventa perentoria. A che ora vieni, no? Detto a due per, assume, allora cambia tutto. Cambia tutto. Eh? È brutto il due per. Vabbè. Adesso passiamo. Vedi, essere vicino a Matteo Curti fa spostare la discussione dalla fotografia alla fonetica. Alla parte, sì, che riguarda ciò che si vuol dire. Fa parte anche quello dello storytelling, no? Fa parte, assolutamente sì. Storytelling, dello strumento che abbiamo in tasca. Eh, assolutamente, certo. È nettamente uno strumento di storytelling a tutti gli effetti. Assolutamente. Anche quello fa parte, certo. Quindi il cellulare è arrivato, più o meno sono quasi, più o meno dieci anni fa, tutto sommato, sembra volato il tempo, però comunque... Diciamo quindici. Diciamo quindici anni fa. Il cellulare ha dentro quello che noi usiamo più di tutti, che è la macchina fotografica e questo ha completamente rivoluzionato il mondo. Totalmente. Io ho la fortuna di avere un'età anagrafica che ha visto nascere... Cioè, sono molto, molto fortunato per quello che riguarda la tecnologia fotografica, perché dopo aver fatto metà della mia vita in pellicola usando la fotografia tradizionale. Poi ho visto nascere prima internet, poi dei telefonini che facevano... Io ho usato veramente dei telefonini vecchi, 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 che avevano una risoluzione irrisoria, dove si facevano degli ectoplasmi nella realtà, delle sindone, insomma così. Quindi, insomma, ho visto tutto il passaggio. Per arrivare, per arrivare, ma adesso lo dico veramente non per fare l'azienda lista che non sono, però per arrivare a dei mezzi, come questo ultimo Xiaomi, con una qualità spaventosa. Noi abbiamo qua delle stampe, qua fuori all'ingresso del MIA, quando arrivate, ci sono delle stampe grandi, che sono grandi, alte 3-2 metri. Sono un metro e mezzo di larghezza per due e mezzo di altezza. Due e mezzo foto lì sono fatte con un cellulare. Cioè, per uno della mia generazione, immaginare delle foto fatte con un cellulare, alte così, è una roba incredibile, inconcepibile. E questo ha e sta e rivoluzionerà il mondo sempre di più, ancora di più, perché permette di fare delle fotografie di enorme qualità, che si possono stampare anche molto grandi, avendo lo strumento sempre con sé. Cioè, non c'è dubbio alcuno che il mondo dell'informazione, ad esempio, sia stato completamente rivoluzionato dai mezzi tecnologici che tutti noi abbiamo in tasca, perché succede qualsiasi cosa, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo della Terra, c'è lì qualcuno con un telefonino che la documenta subito, immediatamente. Forse l'ultimo evento dove c'erano i fotografi sono le torri gemelle, in cui non vedi la gente lì con i telefonini. Oppure, tornando nel tuo campo, a me ogni tanto amo vedere dei video di concerti e c'è una netta distinzione tra i concerti fino a un certo momento in cui nessuno riprendeva niente e quelli dopo, dove tutti riprendono tutto, con i suoi pro e i suoi contro. Insomma, quindi il mezzo ha veramente, come spesso succede, come sempre succede, io non sono molto interessato ai mezzi, ma i mezzi sono fondamentali per come il mondo cambia. Se non ci fossero state le navi, Cristoforo Colombo in America non ci sarebbe andato, quindi il mezzo è sempre molto importante e molto interessante per capire come cambia il mondo, non per la questione tecnica, ma per la questione culturale della questione. Devi pure stare attento a come lo usi il mezzo, perché è notizia recente del ritorno a fare dei concerti di Bob Dylan e Bob Dylan, nei nuovi concerti che farà, impedisce l'uso del cellulare, perché lo trova estremamente maleducato, quindi il proprio cellulare verrà chiuso all'interno di un sacchetto ermetico, però è quella lì un'esagerazione e poi Bob Dylan è noto per avere un pessimo carattere. Ci sono degli artisti che invece col cellulare vanno d'accordo e capiscono che attraverso la possibilità di riprendere, con misura ovviamente, non in maniera invadente, si riesce a ottenere una forma di pubblicità decisiva. Poi il cellulare, ti voglio raccontare una cosa che ha a che fare con ricordi stampati, del quale faccio orgogliosamente parte, il collettivo mi coinvolge e mi capita di fare delle fotografie per delle persone che però, specialmente quelle più giovani, hanno un po' di timore nel presentarsi di fronte a una macchina fotografica e soprattutto sono scettici rispetto al risultato che si può ottenere con la macchina fotografica, perché sono abituati a un'estetica del cellulare. Il cellulare nasce con degli aggiustamenti software che permettono alle foto di corrispondere a un'idea che si ha di quella foto ancora prima di scattarla. Ma questo è fondamentale perché il cellulare in questo sopravanza la macchina fotografica che avrà bisogno poi dell'editing di Photoshop, ma il cellulare al suo interno riesce a fare quello che sostanzialmente facciamo noi guardando il mondo. Noi abbiamo delle lenti che sono gli occhi, che sono molto banali dal punto di vista costruttivo. Se non ci fosse il cervello sarebbero estremamente deludenti, ma il cervello cosa fa? Toglie il naso, per esempio, che è sempre in campo. Dice agli occhi di non vederlo. In realtà gli occhi lo riprendono, ma lo toglie. Gira l'immagine, perché le lenti che abbiamo riprendono il mondo al contrario. Quindi il nervo ottico fa un lavoro di raddrizzamento. E poi cosa fa? Trova il modo di pareggiare i chiaroscuri, il contro luce. Noi riusciamo a vedere in una maniera che è sempre equilibrata. Ma questo perché? Perché ci mettiamo una forma di intelligenza che i cellulari trasformano in algoritmo, ma comunque riusciamo ad ottenere quello che abbiamo davanti nella maniera migliore possibile. Le macchine fotografiche questa cosa non la sanno fare. Perché? Perché si limitano a riprendere, a scattare con enorme precisione un qualcosa che dipende dalla manualità di chi c'è dietro la macchina fotografica. Il cellulare semplifica molto e aiuta andando nella direzione del risultato previsto. In questo senso il cellulare può essere interessante come alternativa alla macchina fotografica. Non che voglia mettersi in competizione. Anche se poi adesso ci sono dei sensori come lo Xiaomi di cui stiamo parlando. Un sensore da un pollice. Sapete che la fotografia deve molto alla fisica degli oggetti che sono coinvolti in quello scatto. E quindi un sensore grande fa entrare più luce e permette di fare ottime fotografie anche di notte. Ma soprattutto ci sono delle intelligenze, chiamiamole così, che trasformano la fotografia nel risultato che noi otterremmo già con Photoshop. Ma mettendoci del tempo. Abbiamo già il risultato pronto. Il cellulare che cosa fa? Accontenta le persone fotografate che si ritrovano nell'estetica che si aspettano e fa risparmiare molto tempo. Con una qualità che permette degli ingrandimenti che naturalmente sono più che sufficienti per la media delle destinazioni che queste foto avranno, che in genere sono i social o stampe anche piccole. Quindi il cellulare ha il vantaggio di essere psicologicamente leggero. Se uno ti punta una macchina fotografica grande, se non sei abituato ti intimorisci. Mentre col cellulare si ha già confidenza. E in più hanno questo vantaggio incredibile del tempo risparmiato. C'è soltanto un pregiudizio adesso nei confronti del cellulare. Se uno arriva con un cellulare non può essere un fotografo perché in qualche modo si collega il mondo della fotografia alla necessità di essere per forza carrozzati con una macchina fotografica che sottolinea la tua professione. Anche su quello pian piano si riuscirà a trovare un compromesso e a capire che la fotografia la fa il mezzo ovviamente, ma la fa il punto di vista, la fa l'inquadratura, la fa la capacità di cogliere qualcosa. Se fosse semplice, se fosse così semplice sarebbero tutti i fotografi. Basta mettere da parte un po' di soldi, si va a comprare la macchina fotografica costosa e allora si diventa fotografi. Non è così. Perdonami, scusami perché non mi scordo. Voglio raccontare, agganciandomi a questo concetto molto interessante, un aneddoto che la dice lunga sulla verità di ciò che hai detto. Qualcuno forse si ricorderà, anche qualche anno fa ho fatto questa follia, di fare questo viaggio a piedi da Imperia Milano barattando la mia sopravvivenza senza soldi, ero senza soldi, e barattando la mia sopravvivenza con le fotografie che avrei fatto strada facendo. È stata un'avventura bellissima che ho fatto e sono arrivato dopo 12 giorni e 276 chilometri a Milano, tranquillo e beato e felice, da buon ligure anche perché non ho speso neanche un euro, ma appunto sono riuscito a sopravvivere con le fotografie che strada facendo facevo. Il dato interessante, che forse non so se l'ho mai raccontata questa cosa, ma prendo spunto da quello che ho appena detto per raccontarla, che io avevo al collo per tutto il viaggio, una Laika, che aveva la funzione di dire e dimostrare alle persone che in effetti ero un fotografo. Ma non ho fatto neanche una foto con la Laika, ma l'ho fatte tutte col cellulare. Cioè la Laika serviva solamente per dire non sono c'altro. La carta d'identità. Ma veramente tutte le foto che nel viaggio ho realizzato per la mia sopravvivenza, le ho fatte tutte col cellulare. Quando qualcuno mi chiede che macchina fotografica compro, quale compatta preferire, io sulle compatte ormai dico che non c'è più vantaggio rispetto al telefono. Le compatte sono state escluse dal mercato perché i telefoni che all'inizio arrivavano fino a un certo punto adesso sono più che competitivi, addirittura competono quasi con le reflex in condizioni, in determinate condizioni di luce. Per appunto ribadire il concetto dell'importanza di come si appare agli occhi del committente, una gran parte di accessori che riguardano le mirrorless, quindi delle macchine fotografiche rispetto a quella pesante con lo specchio, sono più piccole, sono in realtà delle scatole, dei cage cosiddetti, che la contengono per darle un po' più di possenza, per aggiungere dei muscoli a un oggetto che è già sufficiente ma piccolo per risultare così utile alla necessità che uno spende dei soldi per fare un matrimonio e arriva un ragazzo con una macchina fotografica piccola e nella testa di chi spende dice ok, andava meglio mio cugino perché ha la macchina più grande. Questa cosa è veramente sbagliata e va superata, ma insomma ci vorrà tempo. Intanto scorrono dietro di noi dei ritratti che io, Matteo e Guido Stazzoni abbiamo fatto due settimane fa in uno store di Xiaomi facendo ritratti alle persone e come sempre devo dire, guardate questa bambina che meraviglia. Sì, abbiamo lasciato il telefono in automatico, ovviamente la luce era fissa quindi le condizioni ambientali erano sempre uguali, però il telefono riusciva ad adeguarsi sull'incarnato delle persone che avevamo davanti e trovava il punto migliore per rispettare le proporzioni di luce che esaltavano i lineamenti. Era veramente, veramente notevole. Se poi avessimo voluto calcare sull'acceleratore avremmo potuto aggiungere degli effetti che riducevano la profondità di campo e quindi avrebbero donato un lavoro proprio di sfocatura sul bokeh o comunque avremmo potuto aggiungere altri effetti che avrebbero reso tutto sommato superfluo anche la mini post-produzione che c'era dopo. Sì, sì, ma pochissima roba, in effetti. Aspetta, ripeta, al microfono si sentono anche quelli che sono online? Sì, la domanda è questa. E se il messaggio è questo, che io utilizzando quel cellulare in quel contesto avrei fatto, voglio dire, foto della stessa qualità, naturalmente non le stesse foto, va bene? Quindi è il mezzo o è la mia capacità? Io non sono una fotografa. Ho provato, non riesco. No, no, certo. Rispondo io intanto, poi forse la parte più tecnica. Anch'io ho un punto di vista. Allora, una questione in fondamento, chissà perché nella fotografia c'è sempre, forse è l'unica arte, o chiamiamola arte, comunque è l'unico strumento di comunicazione, dove la questione tecnica è così importante e sempre messa in ballo. Io non ho mai conosciuto nessun pittore che si preoccupa dei pennelli che usa. Non ho mai conosciuto nessuno scrittore che si preoccupa di quale penna usa per scrivere. Non ho mai conosciuto, sono cose, da un certo punto di vista contenutistico, completamente ininfluenti, nel senso che quello che conta è il contenuto. Cosa uno dice e perché lo dice. Poi io sono il primo a voler usare uno strumento che sia il miglior strumento possibile, immaginabile, perché se è vero come è vero, che faccia lo scrittore, io voglio una penna che dopo tre righe non finisca l'inchiostro, ovviamente, e voglio la miglior penna al mondo. Ma non c'è correlazione tra il mezzo e il messaggio, e il contenuto. Per cui lei con questo mezzo può fare a un prezzo abbordabile e con grande facilità d'uso, questa è un'altra cosa importante, una volta, una volta, la fotografia era per un'elite, era per persone che avevano una capacità tecnica di realizzarla. Una volta, ai miei tempi, non voglio fare quello, però era così, ai miei tempi, solamente per fare una fotografia a fuoco era complicato. Fare una fotografia esposta bene, era complicato, c'erano gli esposimetri. Chi di voi ha mai sentito nominare un esposimetro? Una volta c'erano gli esposimetri e stavi lì un'ora, tic 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 tic, per trovare la giusta esposizione. Adesso prendi un telefono, tac, ed è tutto perfetto. Questo è un enorme aiuto, enorme aiuto, perché ti permette che tecnicamente tutto funzioni ed è fondamentale, fondamentale, perché il messaggio migliore del mondo attraverso una fotografia sfocata casca. Il messaggio più importante del mondo, tu puoi fotografare, appunto, le torri gemelle che cascano, cosa che è molto importante che sia documentata, ma se fai una foto sfocata e dici, guarda qua, le torri gemelle, è sfocata la foto, non serve a più niente, o tutta bianca, o tutta scura. Adesso ti cascano le torri gemelle davanti, col cellulare, la foto è perfetta. Questo è fondamentale, è molto importante, però non confondiamolo con il contenuto. Il contenuto non lo dà il mezzo, non lo dà il mezzo, il contenuto lo dà l'autore. Io faccio l'autista, voglio una macchina che non si rompa e mi porti sano e salvo fino a Palermo. Poi il motivo per cui vado a Palermo è un'altra cosa, che è altrettanto importante. Quando ci capita di avere a che fare con persone che arrivano a ricordi stampati senza una precisa intenzione, nel senso che altri li hanno coinvolti in una foto che poi dovrà arrestare, molto spesso c'è un ritegno nel farsi fotografare, ci sono delle timidezze. Una cosa che mi colpisce di settimio è la maniera in cui queste persone vengono messe a proprio agio, vengono prese per mano, ma proprio fisicamente, e accompagnate lì al patibolo, almeno ai loro occhi all'inizio è un patibolo e poi diventa un luogo dove la magia accade. La fotografia succede nel momento in cui settimio prende per mano questa persona. Poi sì, c'è un gesto tecnico e siccome quel momento di fiducia è un qualcosa di effimero che tende a sfumare perché poi pian piano quella magia passa, è opportuno che il mezzo sappia essere veloce nell'assecondare i desideri del fotografo. Ma per spiegarvi quanto è importante il punto di vista del fotografo anche rispetto al mezzo, vi racconto brevemente di un esperimento che è stato fatto un po' di tempo fa. È stato preso un attore, questo attore era un attore poderoso, gigantesco, senza capelli, e sono stati chiamati una decina di fotografi. A questi fotografi è stata raccontata una storia differente a proposito dell'identità di questa persona, che di volta in volta era un assassino che aveva strozzato una persona con le sue mani, altre volte era un pescatore, una persona abituata a una vita solitaria, altre volte era un vigile del fuoco che ha salvato dei bambini. Questa cosa ha influenzato tantissimo la fotografia di questa persona, che infatti alla fine poi sono state stampate le foto, il risultato di questo shooting, erano persone differenti, le luci erano piazzate in una maniera differente perché nella fotografia esisteva il punto di vista del fotografo che ha influenzato tantissimo il risultato. Questa cosa non può essere trascurata perché la fotografia non è oggettiva, è filtrata dagli occhi e dal pensiero di chi quella fotografia la scatta. C'è il mezzo tecnico ovviamente, ma stiamo parlando di un qualcosa che ha a che fare con delle emozioni e quelle cambiano a seconda della persona che c'è dietro al mezzo tecnico, che poi sia un cellulare, che sia una macchina fotografica di vario tipo. Questo è importante ma secondario rispetto all'intenzione perché la fotografia è un'idea che poi si realizza per comunicare un sentimento. Poi c'è la macchina fotografica. Allora io vorrei fare un attimo un passo indietro per un po' per legarmi sia al discorso dell'iconicità di cui parlava prima Settimio sia al discorso della signora. Allora, leggevo l'altro giorno che nel 2022 sono state scattate circa due trilioni di foto, che vuol dire due miliardi di miliardi di foto. Un trilione sono tramonti. Questo è possibile, questo è possibile. Il resto biatti e basta. Di questi due trilioni il 93% sono fatti con lo smartphone. Ok, il 7% sono fatti con macchine fotografiche. Ciascuno di noi sul suo telefono ha più di 6.000 foto in media che tiene. Tendenzialmente la cosa assurda che è l'altro lato della medaglia, che è la semplicità con cui si fanno le foto con lo smartphone, con anche appunto anche il nostro smartphone, fa sì che diventiamo un po' degli accumulatori. Non ci soffermiamo di fatto a rivedere, a dare importanza a questa foto che abbiamo appena scattato o a foto che abbiamo scattato in passato. Tanto che per esempio negli ultimi mesi è venuta fuori questa cosa qua che su Instagram va del photodump, mettiamo 10 foto che danno un mood, che raccontano una cosa, tendenzialmente sono foto anche magari un po' brutte perché adesso si cerca anche un po' quella autenticità, quella cosa lì di raccontare qualcosa, non si sa bene cosa e buttiamole tutte così, le pubblichiamo tutte quante così. L'idea è proprio quella di cercare di attraverso appunto professionisti come Settimio, come Matteo e fondamentalmente è proprio quella di ridare un po' quel valore alla fotografia. È popolare, assolutamente, è più popolare, più accessibile, però cerchiamo di soffermarci un attimo su quello che abbiamo scattato, cerchiamo di raccontare qualcosa in quello che abbiamo scattato. E proprio così abbiamo fatto appunto per esempio ad Arese, stiamo facendo in questi giorni qua, proprio per cercare di andare oltre a questa cosa che ormai è diventato quasi un gesto, ti trovi davanti a una cosa bella, la vuoi fotografare, ma non sai bene neanche perché cosa la vuoi fotografare. La fotografi però poi dopo chi lo sa se la riguardi, chi lo sa se la mostra qualcuno. Leggevo che effettivamente un altro numero interessante sono le immagini condivise su WhatsApp, sui social, eccetera, eccetera. Sono più, se non sbaglio, di 700 milioni al giorno, ok? Quindi vuol dire che ciascuna foto, ciascuna immagine, ciascuna qualsiasi cosa viene condivisa a una vita veramente effimera. Quindi perché non fare un passo indietro? Cercare, ovviamente con la facilità tecnica di un mezzo come il nostro smartphone, piuttosto che altri mezzi, comunque cerchiamo di fare un passo indietro, cerchiamo di raccontare qualcosa, come fare i cordi stampati, racconta ciascuna persona che viene lì, che interagisce con il fotografo, che gli racconta la sua storia. In qualche modo ovviamente è un'opera di co-creazione, no? Quindi, vede? Esatto. Infatti il gesto stesso di stampare le foto è una cosa molto diversa rispetto ovviamente a tenere le 6.000 foto sul telefono, che cambio telefono e quelle 6.000 foto magari le ho anche scaricate, magari no, chi lo sa. Però questa è proprio la volontà nostra, quella appunto di cercare di ritrovare quell'iconicità dell'immagine, quella forza prorompente di un'immagine che viene appunto raccontata da una persona che la sa raccontare. Ovviamente ciascuno di noi può scattare una foto, meno persone sanno raccontare una storia. Il mezzo tecnico c'è, ovviamente è interessante cercare di dargli un peso, questo mezzo tecnico, una capacità. E quindi appunto questo, questo di fatto è più che altro la cosa che vogliamo fare. Quindi appunto quando noi abbiamo fatto queste foto ad Arese, vedevamo le persone che erano veramente coinvolte nel volersi mettere sì di fronte all'obiettivo, ma soprattutto voler far vedere, magari non si nota tanto, però come erano loro, come si sentivano, volevano raccontare se stessi attraverso una foto. Ed è un po' la questione del ritratto di cui parlava Settimio prima. E vedere appunto queste persone che tra l'altro cercavano sempre, in questa occasione non lo stiamo facendo per un altro motivo, ma cercavano sempre di coinvolgere magari le persone che amavano, per rientrare nella foto, fare il ritratto con le persone che amavano. Proprio perché, secondo me, questa impostazione diversa dello scatto con lo smartphone, questo dargli un valore, dargli un peso, fa sì che la gente gli dia veramente l'importanza che ha. Fare una foto veramente è un gesto che può essere rivoluzionario, è un gesto che ha veramente un impatto. E quindi a noi stessi, diciamo, che lavoriamo con gli smartphone, ci piange un po' il cuore vedere tutte queste gallerie immense di foto che vengono completamente dimenticate, che vengono completamente tralasciate. Ed è incredibile sta cosa. Un'altra roba che leggevo, oggi vado con i numeri, leggevo che, ho detto prima, due trilioni di foto nel 2022 hanno scattato. Si stima che nella storia dell'umanità ne siano state scattate 12 trilioni. Quindi un sesto delle foto che sono state scattate nella storia dell'umanità sono state scattate l'anno scorso. Ok? Questo significa che ovviamente con la semplicità dello scatto aumenta totalmente anche la quantità del materiale. Dall'altro lato, ovviamente, sappiamo che non è detto che la qualità, diciamo, da un punto di vista del racconto, migliori, anzi, tendenzialmente si impoverisce. Sì, allora, collegandomi, due cose che voglio sottolineare. Vorrei sottolineare. Uno, ti ringrazio aver detto che tu stampi. E il fatto della stampa, il progetto nostro si chiama Ricordi Stampati, cioè il fatto della stampa è fondamentale. E uno strumento come questo telefonino con questa potenza di A, di pixel, di queste cose qui, permette di stamparlo a grande qualità. E questo è molto, 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 molto importante perché è una cosa che non tutti sanno, anzi, secondo me molto pochi sanno, soprattutto degli utenti finali, normale, tra virgolette, è che tutte le fotografie che noi abbiamo sul cellulare, se non accuratamente back-upate, conservate, cosa che pochissimi fanno, inevitabilmente sono destinate a sparire. Perché qualsiasi, ma anche, ovviamente parlo anche delle macchine fotografiche digitali, quindi tutte quelle che ci sono adesso, cioè tutte le fotografie digitali, fra cento anni, boh, chi lo sa, no? Voglio dire, io, mi sembra l'altro ieri, che back-upavo le mie fotografie professionali su dei dischi, dei compact disc. Adesso non saprei più dove metterlo. Io ho dei colleghi che, si diceva una volta che il backup sul compact disc era quello più sicuro, più economico, insomma, io ho degli amici, colleghi, che hanno degli armadi enormi, pieni di compact disc, con dentro milioni di fotografie. Ora come ora, non so, li vendono ancora i lettori di... Sì, li vendono, ma è difficile consultarle. Cioè, proprio recentemente, mi è capitato un amico che aveva bisogno di vedere questo DVD con dentro i ricordi di suo figlio, quindi, insomma, una cosa non decisiva, però importante per l'economia della sua famiglia. C'è un problema tecnico che riguarda i DVD, che deperiscono, hanno una vita di una quindicina d'anni, ma specialmente quelli fatti in proprio, risentono spesso dell'inclinazione del laser che li incide. Quando quell'inclinazione non corrisponde a quella del lettore, che dopo molti anni tornerà a cercare di prendere i dati che sono là dentro, quel DVD o quel CD risulterà leggibile soltanto nella parte iniziale e questo costringerà poi la copia a fermarsi a metà, perché per metà il contenuto di quel disco diventerà illegibile. Questa cosa è destinata a peggiorare nel tempo, per non dire del fatto che anche il fattore di compressione del primissimo JPEG è diverso da quello attuale e molto spesso le foto che hanno una ventina d'anni e che sono state salvate con macchine dell'epoca che già salvavano su scheda hanno un difetto di squadrettatura verde e non si vedono più se non per un pezzo. Questa cosa è seria perché noi, convinti di avere qualcosa da parte, stiamo creando attorno a noi un deserto digitale. Una provocazione potrebbe essere quella di dire a chi produce mezzi di storage di diminuire la capienza così almeno nei cellulari non c'entrano 6.000 foto, ce ne entrano 100 e siccome si ha poco spazio, quando uno fotografava quei rullini aveva 36 pose nella migliore delle ipotesi, se no 24, se quei rullini che dovevano durare un viaggio fossero stati sprecati, ci sarebbe stato un problema di fotografie inutili che poi però erano le uniche di quel viaggio e quindi bisognava fare con più attenzione. Ora non dico che si debba fermare il progresso perché è fondamentale che il mezzo sia all'altezza della modernità, però è giusto pensare che avere tanto spazio non significa poterlo dissipare senza che questa cosa poi abbia un contraccolpo sull'ordine delle foto raggruppate ma soprattutto sulla possibilità di queste foto di durare nel tempo. Eh sì, è esattamente così, esattamente così e ribadisco questa faccenda della stampa possibile grazie ai mezzi della contemporaneità dei cellulari è fondamentale. Questa fotografia qua che abbiamo qua dietro di questi genitori con questa bambina noi l'abbiamo data stampata a loro e questa foto loro ce l'avranno per sempre. Una cosa che io dico molto spesso è che queste fotografie e questi ritratti che facciamo non sono fatti e questa è una differenza ontologica completamente diversa rispetto all'uso che si fa normalmente del cellulare che io faccio una foto e la uso subito la condivido subito faccio la foto a questa bottiglia e la mando e dice guarda c'è anche l'acqua e la mando immediatamente. Queste fotografie il loro utilizzo non è per l'oggi non è per l'oggi assolutamente no sono delle macchine del tempo sono un messaging battle questa fotografia qua dietro che abbiamo qua dietro è fatta per questa quando questa bambina avrà 80 anni e sarà nonna e ai suoi nipoti farà vedere questa foto fatta nel 2023 con papà e mamma e questo è l'enorme importanza e potenziale di queste fotografie fatte con questo mezzo che permette di farlo il fatto che siano stampate tutta questa operazione fatta in collaborazione nostra con Xiaomi una cosa che abbiamo sempre fatto in quel caso lì nel loro store di Arese qui al Mia noi stampiamo le fotografie le stampiamo tutte facciamo ormai siamo a centinaia di ritratti fatti e sono centinaia sono migliaia di ritratti stampati e consegnati alle persone quindi è una cosa che grazie a Xiaomi sta avvenendo ed è molto 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 importante e la cosa bella secondo me è come le due anime in qualche modo come l'anima del centro commerciale l'anima della fiera d'arte vivono allo stesso modo l'entusiasmo è letteralmente lo stesso la gente vuole questa cosa qua e la vuole sia che appunto di qualsiasi centro sociale sia di qualsiasi proveniente da dovunque venga qualsiasi cosa faccia nella sua vita perché ne capisce inconsciamente l'importanza della materialità di questa foto dell'averla e di portarsela a casa portarla alle persone che ama eccetera eccetera di tramandarla come dicevi al futuro vorrei parlare di un altro aspetto importante permesso dai cellulari e cioè i video più che la fotografia che è fondamentale ovviamente per conservare un ricordo il video aggiunge una cosa che molto spesso si trascura cioè la voce la voce delle persone quando spesso appunto succede che le persone a un certo punto non ci sono più la voce si dimentica l'aspetto si ricorda ma la voce è proprio una madeleine d'improvviso ascoltando la voce di una persona quella persona torna accanto a te e ti ricorda tantissime cose che hanno avuto a che fare con quello che quella voce ha detto questo telefono lo sapete fa un video 8k che è una molto di più di quanto l'occhio possa apprezzare è una una soluzione tecnica veramente avveniristica ma la cosa che voglio dire è che prende molto bene l'audio e questa cosa io l'ho potuta notare girando facendo dei video e adesso non me ne rendo conto le cose che uno dà per scontate nel momento in cui nascono acquisiscono valore maturano migliorano nel tempo e insieme a quelle fotografie di cui così largamente abbiamo detto anche i video sono importantissimi per il ricordo delle cose che sono successe forse anche di più perché possono raccontare dei movimenti ma appunto io vorrei insistere sulla voce e credo che la che la possibilità di conservare anche questo in buona qualità sia veramente importante ti capi l'anno prossimo dobbiamo fare video stampa non so andiamo non so a hollywood non non escludo che questo telefono venga utilizzato per girare dei video già altri telefoni di marche in concorrenza sono stati usati per fare video il video di Lady Gaga stupid love è stato fatto con un sistema di cellulari abbordabilissimo per chiunque poi naturalmente c'è un direttore della fotografia la differenza la fa sempre la luce lo strumento riesce a lavorare nella maniera per la quale è stata pensata soltanto in condizioni di luce ottimali poi dopo quando invece la luce diventa penombra o non è sufficiente la dimensione del sensore diventa importante e quando è grande la vita è più semplice però ecco ci sono delle cose che sono state fatte low budget proprio per dimostrare che il messaggio arriva ugualmente quando il mezzo tecnico è sufficiente i cellulari Paranormal Activity che è un film che ha avuto molto successo più per le sensazioni di terrore che riusciva a comunicare che per la qualità estetica ma adesso si potrebbe fare tranquillamente un video o un film con dei cellulari secondo me li fanno e non ce lo dicono perché poi penseremmo che sono stati fatti male o brutti secondo me abbiamo visto molto spesso cose fatte con dei cellulari sulle quali non ci siamo interrogati ma la qualità estetica è decisamente comparabile con quello che la tecnologia permetteva con mezzi enormi fino a qualche anno fa questo dici di nuovo mi aggancio è verissimo perché se è vero come è vero come ho raccontato prima che sono dovuto andare in giro con una super laica appesa al collo per dimostrare che ero veramente un fotografo in quell'avventura della camminata però è anche vero il contrario che il cellulare permette proprio linguisticamente di entrare in situazioni e farlo in maniera molto più indolore in maniera molto meno visibile e quindi raccontare quello che uno sta documentando in una maniera più interessante permettetemi di raccontarvi velocemente che era più o meno di questo periodo peraltro anzi esattamente in questo periodo due anni fa due anni fa quindi pieno covid il Corriere della Sera mi chiese di andare a fare delle fotografie dentro alla rianimazione dell'ospedale Sacco di Milano stava esplodendo il covid c'era già lockdown e insomma il Corriere della Sera dice di andare e io insomma onestamente di andare dentro al reparto di rianimazione dell'ospedale Sacco che è l'ospedale titolato in Lombardia delle malattie infettive non ci avevo nessuna intenzione e neanche potevo perché ho avuto dei trascorsi sanitari per cui è meglio che io in un reparto di rianimazione di un reparto infettivo è meglio che non ci vada e poi insomma volevo anche eravamo tutti chiusi in casa c'era un lockdown io ho pensato che anch'io da fotogiornalista dovevo trovare la maniera di assolvere a quel compito standomene a casa come facevano la maggior parte degli italiani e al che visto che il Corriere della Sera insisteva perché io andassi ho pensato di ho pensato bene di inventarmi una cosa che è stata molto interessante ed è proprio linguisticamente stata molto utile cosa ho fatto io ho istruito un'infermiera che lavorava dentro alla rianimazione di andare in giro con un telefonino inquadrare io gli davo indicazioni come se la pilotassi da distante tra l'altro io ero in Liguria in Imperia quindi ero veramente distante e quindi prima abbiamo fatto delle prove poi io la pilotavo ok vai lì inquadra qui più alto più basso fermati così e quando la scena era giusta io facevo ho fatto uno screenshot del mio telefono attraverso il quale stavo facendo questa videochiamata con lei ho fatto lo screenshot e sul Corriere della Sera sono uscite le fotografie fatte con lo screenshot del mio telefonino attraverso l'infermiera che era dentro alla rianimazione del sacco tutto questo a parte vari vantaggi io me ne sono stato a casa mia a Imperia eccetera eccetera ma proprio linguisticamente e operativamente è stato molto interessante perché se io fossi entrato dentro al reparto di eliminazione con una super macchinona e quindi tutto il mio ambaradan di protezione eccetera eccetera inevitabilmente avrei modificato quello che stavo documentando mentre invece la presenza dell'infermiera molto discreta e soprattutto una presenza normale per quel luogo ha fatto in maniera tale che io documentassi delle cose ne sono convinto che se fossi stato lì con il mio macchinone fotografico non avrei documentato quindi il cellulare è un mezzo che con intelligenza progettualità e pensiero può e deve essere usato a nostro vantaggio non è un nemico io lo dico da fotografo molti fotografi sono vedono il cellulare come un nemico assolutamente no perché non vogliono impararlo perché ancora siamo al banco ottico esatto esatto quando c'è la pellicola quando c'è la pellicola era tanto tempo fa no il mondo va avanti e per fortuna va avanti se no saremo ancora lì nel medioevo una cosa che riguarda i video e che io trovo purtroppo odiosa è che l'orientamento proposto dal cellulare verticale questa cosa è utile per i social perché l'algoritmo favorisce ciò che riempie lo schermo ma è impossibile da considerare utile per l'archiviazione perché noi abbiamo gli occhi montati in orizzontale gli schermi sono in orizzontale e il video in verticale occupa soltanto una porzione di questo schermo e il telefono come i pesci tra un milione di anni gli uomini avranno come le soglie ci sarà la migrazione degli occhi ma invece di andare sulle tempi andranno in fronte ma vorrei dire che questo telefono Xiaomi impedisce per alcuni effetti proposti nelle app l'utilizzo del video in verticale e consente il rack soltanto quando il telefono è in posizione orizzontale questa cosa è veramente balsamo per la mia anima perché così almeno sono costretto a fare dei video che fra qualche anno rivedendoli nelle televisioni orientate in orizzontale avranno ancora un senso vabbè io direi che con questa meravigliosa unicorno qua dietro col cuore rosso bellissimo guarda che meraviglia guarda che fantasia forse già lo sapete ma devo dire che ogni volta fotografare queste persone è una commozione spesso volentieri le persone si commuovono fino alle lacrime e quindi è un'operazione che ci riempie ci fa piangere eh sì anche a noi no veramente ci sentiamo di trattenerci sì 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 infatti va bene Oscar Matteo grazie c'è ancora qualche domanda no va bene sì forse una domanda forse c'è un ah no sì no c'è chi da qua vada vada no è riservata intima è privata va bene va bene grazie a tutti grazie infinita grazie 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 grazie